Manola è in contrattazione, eccola, appena arrivati già si compra tutto, ma io vado a fare il bagno, pensate si, quindi non siamo solo noi ad andare in vacanza nel periodo dei monsoni qua, senti le cigale, senti le cigale, sparita, sparita Manola, ah no, c'è, c'è, dove fai sull'altalena, Claudio guarda come si va sull'altalena, senti gli uccelli qua sopra, The beach, Leonardo Di Cabrio è stato qui, this is the pennical after lunch, sotto ombrellone, sotto alberi, sopraelevati per fresco e facciamo the pennical, e qui c'è il mercato del cibo, tutte bancarelle per cibo 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 cibo, Manola sta facendo conoscenza, conoscenza, ecco che bisogna portare a casa un altro cucciolo, oh è subito, ah lei ci ha messo anche la verdura, la vuoi una banana? la vuoi una banana? la vuoi una banana? si! la ricata Manola che faccio, San Franciè, se la tene per dopo questa? lo sapevo io che faceva, col dietro, con il dietro ci ha provato, guardano la busta però eh! oh Dio, oh Dio... Gli arrivagia spezzano, ahah! quanto gli piace il cellulino! ah due mezzo mi ritengo tanto di verso! Ti piace? WowoA! WowoO! Questi stanno offrendo il loro corpo a Buddha, che sono delle buddhane. Ehi salve! Buon amore! Occhio che buddha! Ehi andiamo a vedere il tramonto dall'alto giungla e le cicale, 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 cicale. Guarda la dentro che spettacolo, ma no! Guarda, ma no, c'è Leonardo Di Caprio, là giù. Vedi Leonardo Di Caprio? Bassissima stagione, non c'è nessuno qui con la barca. Isola deserta, desert island, bassa stagione. Ma chi ci abbiamo qui? Sempre con i cellulari! Siamo in discoteca! Come si chiama questa discoteca? Riccia? Riccia! Come si chiama? Tuk Tuk. Tuk Tuk disco Andiamo a mangiare? Ehi andiamo qua. Dove mangiamo? L'elefante, l'elefante, l'elefante Cioè, sala giochi del 2050 Tutti Oculus Eccola Amore, facciamo? Lo facciamo? No, ma è bastato quello di me Audio, ho capito perché i maschietti vengono qua Qua coppo Manola e faccio un diretto Honor, sono grattivi E' un raticom quadro Adi Ok, quando? Non voglio Episcerco Per fare Te ho mrk Odio da... pieno di gnocca, eh? Per accoppiarsi, i fanno che siamo venuti a Catanoi per il silenzio. Sentite che silenzio che c'è la notte. Buonanotte. Meglio nuvolo. Esce fuori il sole. Si brucia, guarda che tappeto facciamo. Ecco il nostro... I nostri acquisti dell'ultima ora. Fai... molleggia, molleggia. Ah, eccola. E c'è anche il massaggio incorporato. Eccolo. Bellissimo. E questa è Surin Beach. Una scoperta. Non ci puoi fare stabilimenti, quindi è tutto selvaggio. Ed ecco Manola che va a solcare i mari. E i monti. I monti. E voilà! Il salto felino atletico. Vai, amore. Vai, amore, l'onda. E vai, io ce l'ho brava! Vai che gliela fai, amore. Ora andiamo Eccola Eccola La miseria In quel momento stavo a fare una foto Fatto come a te Qui a Kata Il mare è da quella parte Però il surf Lo fanno al bar Ma sarà al mare Sicuramente Ma no Eccola Manola Dove vuoi stanno Viva al mare lei Gli fa schifo Tutti insieme Salutiamo il sole Ciao sole Facciamo un saluto a sole Ciao sole Do sole Sole è andato Sole è bruciato Questa ragazza sulle spalle Sì Il sole è bruciato Ciao Thailandia Noi andiamo in Qatar Ug Anytime � E bruciato Willi ti